Continua a Bitonto il progetto Impariamo a mangiare sano che dal mese di gennaio ha portato 600 alunni di scuola primaria tra i verdi paesaggi di Lama Balicea alla scoperta delle sue bellezze e delle sue ricchezze. Al via il secondo laboratorio dedicato all'importanza nell'alimentazione degli ortaggi. I partecipanti avranno l'opportunità di realizzare e curare un piccolo orto biologico, un'esperienza dal valore formativo eccezionale in grado di favorire lo sviluppo di un legame affettivo con la natura. L'iniziativa prevede quattro appuntamenti in masseria didattica, uno al mese fino ad aprile. Il primo appuntamento di gennaio è stato dedicato all'olio extravergine di oliva e in particolare al cima di Bitonto. Nel corso della seconda tappa i ragazzi invece avranno l'occasione di conoscere gli ortaggi caratteristici del territorio, la loro stagionalità e il modo migliore per coltivarli. Diverse le scuole coinvolte, il primo circolo didattico statale Nicola Fornelli e gli istituti comprensivi Caiati Don Tonino Bello, Modugno Rutigliano Rugadeo, Silos e Cassano Derenzio e l'istituto Sacro Cuore. La verdura è importantissima nell'alimentazione quotidiana e soprattutto nella dieta mediterranea e in particolar modo la verdura di stagione, motivo per cui i bambini imparano, hanno imparato oggi ad apprezzare, a coltivare, a far crescere la verdura della stagione che ci accompagna che è l'inverno. Per l'amministrazione comunale è presente l'assessore all'istruzione Cristian Farella. Quattro settori relativi all'educazione alimentare per far comprendere e toccare con mano, grazie a queste attività laboratoriali che i bambini stanno mettendo in campo, cosa significa uno stile di vita sano, cosa significa una corretta educazione alimentare per promuovere una prevenzione soprattutto per quanto riguarda le malattie legate a fenomeni di sedentarietà. Un progetto dove l'amministrazione comunale a partire dal sindaco ci crede tantissimo che va nella direzione di rafforzare quel patto socioeducativo tra scuola, comune e soprattutto le famiglie. L'appuntamento successivo a marzo sarà dedicato all'ambiente e darà ai ragazzi l'opportunità di conoscere le caratteristiche naturali, geologiche e storiche di lama balice. L'ultimo laboratorio ad aprile sarà dedicato all'importanza di mangiare frutta, preferibilmente locale.